La nostra diocesi ha vissuto in questo fine settimana due momenti intensi di preghiera e di devozione, entrambi preseduti dal nostro vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti, il primo ieri 2 giugno presso il santuario della Ceretta di Carro, dove si è celebrata la memoria liturgica di Sant'Antonio Giannelli, patrono della Valdivara. Il tempo incerto non ha impedito la celebrazione all'esterno del santuario, alla presenza di molti sacerdoti del vicariato e dell'ordine religioso delle figlie di Maria dell'Orto, meglio conosciute come suore Giannelline, rappresentato ai massimi livelli con la madre generale dell'ordine, suor Gladys Eberhardt, che ha rivolto ai convenuti il saluto di accoglienza. Molti fedeli giunti dalle parrocchie della zona, molti dalla diocesi Spezzina, ma anche dalla vicina diocesi di Chiavari, con le comunità locali della Valdivara rappresentate dai sindaci presenti con le fasce tricolori. Nell'Omeria il Vescovo ha ricordato il carisma del santo, indicandolo come esempio e guida per il nostro cammino di fede. Al termine della celebrazione, come tradizione, la statua linea del santo è stata portata in processione per via di Ceretta, con il ritorno al sagrato del santuario, dove il Vescovo ha impartito ai presenti la benedizione solenne. Il secondo momento si è vissuto invece questa mattina, presso il santuario Mariano del Molinello, che compiva quest'anno i suoi 500 anni dall'apparizione della Vergine a una giovinetta del posto, annunciando la preservazione della popolazione di Vezzano dalla terribile pestilenza che aveva colpito il territorio in quei tempi. Per ringraziamento la popolazione resse il santuario che ancora oggi emetta di devozione e di preghiera. I fedeli hanno raggiunto il santuario guidati da donungo infante in processione, recitando il rosario e intonando i mariani. Giunti al santuario il Vescovo ha celebrato la Santa Messa alla presenza del sindaco Massimo Bertone e di molti fedeli. L'omelia, ricordando la figura mariana, conosciuta anche come Regina della Pace, ha sottolineato l'aspetto che il Vangelo e le letture ponevano ai fedeli. Nell'occasione del santuario è stata predisposta una mostra fotografica curata dall'associazione culturale Vezzano e Oltre, che ricorda i momenti salienti dei 500 anni di vita del santuario, mentre all'esterno è stata ricostruita la scena dell'apparizione ed installati banner esplicativi sulla storia del luogo. Prima della benedizione finale il Vescovo ha benedetto un calice, una piscide e una patena realizzate in legno d'olivo da alcuni giovani della parrocchia. Martedì prossimo, nell'ambito di essere chiese a oggi, presenteremo servizi più completi sulle due celebrazioni. Ricordiamo intanto due appuntamenti, il primo domani sera alle 17.30 presso la chiesa concattedrale di Santa Maria Assunta in Sarzana con la recita dei Vespri e la processione del preziosissimo sangue, mentre lunedì alle 10.30 nella medesima chiesa sarà celebrata la Santa Messa Solenne per la festività liturgica.